Ciao a tutti ragazzi e bentornati da alex54 Ciao ragazzi come vi ho detto nel video che ora sta caricando come potete vedere ecco sta caricando Vi ho detto che vabbè ovviamente già uscirà quel video quindi ve l'avete visto Sono arrivato a mille trofei Brock ce l'ho Quindi diamolo Questo voglio mettere al centro Scusatevi un attimo Ok va bene lì Andiamo ad aprire le casse quindi andiamo prima ad aprire le due piccole Diamo attenzione che questa la carica Quando la carica è un buon segno Più 8 punti energia e rosa anche le punti energia Va bene Andiamoci ad aprire la seconda Scegli che buono è quello che ho più Voglio aumentare le cose andiamo Prenderci questa mega cassa Aspetta la vabbè mezza mega Così Rosa Peccato ragazzi